Sempre qui da Corio Gianni, la abbiamo con noi il Presidente Fabrici. Allora, diciamo, dopo questa prima mangiata, Presidente, cosa ci aspettiamo da questi giovani? Un'acqua mangiata? Un'acqua mangiata perché al tavolo sono perfetto. Sono perfetto. Siccome questa è arrivata dopo tre, a prossimo, vinciamo sempre sul tavolo. Sul campo ci troviamo male perché è troppo grande il campo. Grazie.